Nel fine settimana del Carnevale degli Este, protagonista delle tradizioni ferraresi sarà anche il mercato di campagna mica, come spiegato dalla vice direttore di Coldiretti Ferrara, Riccardo Casotti. È il secondo anno che Coldiretti partecipa attivamente alla celebrazione del Carnevale degli Este. Come abbiamo sperimentato con grande successo, devo dire, l'anno scorso, organizziamo il mercato della erbe, quindi in piazza Trento Trieste, il 22 e 23, sabato e domenica, dalle 10 alle 18, con le nostre ziende agricole di produzione, dei prodotti di stagione, per lo più trasformati, visto appunto il periodo, però siamo presenti proprio per animare anche questo aspetto importante, che era un aspetto della vita quotidiana e soprattutto il mercato nella piazza storica del mercato di Ferrara, quindi una rivocazione anche dal nostro punto di vista.